per prenderci quello che è nostro dobbiamo sudarcelo sul campo niente alibi benzina nelle gambe e sudore sulla maglia diario della resurrezione capitolo dodicesimo irpini d'italia e del mondo buon poveriggio a tutti dallo stadio quinto ricci di aprilia per la dodicesima giornata del campionato di serie di chilone g sono pronte a incrociare i tacchetti aprilia racing club ed avellino fischio d'inizio di galipò si comincia a giocare occhio perché c'è spazio a destra per l'aprilia il movimento di russo che arma il sinistro poi si ferma non riesce a passare viene fermato molto bene battute tribuzzi occhio perché arriva alle sue spalle a campora che gli può dare superiorità decide di andare da ciotola ciotola la tiene vicina poi serve molto bene frattesco buono che è solissimo a destra buono va in mezzo poteva calciare preferisce il rasoterra l'avellino guadagna calcio d'angolo prima buona occasione per i lupi al tredicesimo minuto di gioco infatti può crossare da posizione più ravvicinata la mette tra le braccia di lago marsini due contro due la lancia subito a cercare ciotola mettendolo un po in difficoltà la mette giù benissimo nicola ciotola va in mezzo al campo a cercare soccorso però non è salito nessuno soltanto ma tutto è vicino che imbuca verso Devena Devena riesce ad incunearsi anche a prenderla col sinistro ti lasciamo una ventina di metri troppi basco con il sinistro cerca di andare dentro era una buona idea per l'inserimento da parte di russo Olivera la raccoglie cerca il tiro spacca l'incrocio il tap in e la rete dell'aprilia daniele corbia al ventitresimo qui di collo esterno destro sorpreso lago marsini traversa accanto all'incrocio corbia è rapidissimo brucia patrignani francesco buono prende spazio con la spalla sinistra ancora Devena matute che non è un attore serve bene buono a destra può controllare e andare al cross che arriva ora il pallone interessante va a vuoto saglietti e poi va ad allontanare mastro mattei tribuzzi attenzione perché sono in tre contro uno per l'avellino sulla sinistra pallone per ciotola che può entrare in area ciotola ce l'ha sul sinistro calcio in porta e non trova lo specchio per centimetri nicola ciotola al 36 qui la gran palla di tribuzzi che porta tre uomini su di sé la mette nello spazio nicola ciotola che meglio di così probabilmente non poteva calciare 120 secondi e poi spogliatoi patrignani si suicida l'avellino attenzione a daniele corbia tra le linee c'è spazio perdone corbia sulla destra visto è servito corbia la metta in mezzo 2 a 0 aprilia tutto troppo facile la penna per il 2 a 0 pallone perso a centrocampo corbia a supporto vede e serve di prima la corrente la penna il classe 2000 ci manda negli spogliatoi con una zavorra pesantissima sulle spalle tribuzzi la mette in mezzo cercando matute la palla arriva sul secondo palla tutto regolare e la meta dell'avellino che la corcia l'ha riaperta ciotola ciotola tutti a vuoto regolare regolare di posizione regolare no no è tutto regolare tutto regolare e dice che l'avellino l'ha corciata eccolo qui l'intervento a vuoto ciotola con il petto la mette giù benissimo l'arbitro attende che il tesserato dell'apriglia abbandoni il rettangolo di gioco e dal via ad altri 41 minuti in cui l'avellino avrà la possibilità di andarla a riprendere michailovski va a vuoto se il calcio di rigore non ci credo non ci credo è durata 60 secondi 60 secondi serve che lago marsini metta le ali per tenere a galla questa partita vai ettore corbia contro lago marsini lago marsini la tiene la intiona sul prato l'avellino è ancora in partita magari basta errori grazie michailovski verso ciotola è buono questo lancio ed è ottimo anche l'aggancio di ciotola il gioco di gambe di nicola ciotola che si prende il fondo poi la mette in mezzo col piatto nella palla resta lì occasionissima per l'avellino poteva andare molto meglio di così ventana dalla bagnerina tribuzzi sul secondo palo il terzo tempo e il colpo di testa con il pallone sul fondo di santiago morero vediamo come andrà a piazzarsi forse a puntellarsi con un 4 4 2 sulla sinistra è passato titone occhio titone che il trenare dal lato corto titone passa in mezzo prova il tiro lago marsini plastico tribuzzi servito da matute trova in posizione regolare deve vena deve vena può alzare la testa e metterla in mezzo verso ventana la palla resta lì arriva top temicchia selvaggia la inchioda a terra saglietti calcio di punizione anche lago marsini e il pallone della disperazione l'altra battuta nella maniera peggiore possibile l'avellino va a fare anche il terzino praticamente lago marsini tribuzzi accanto a sé la possibilità per il cross sul secondo palo c'è di vena si salva saglietti e probabilmente finisce qui è finita aprilia batte avellino 2 a 1 ancora una sconfitta per i lupi che restano a quota 21 in classifica qui l'ultima occasione non ci arriva morero non ci arriva devena l'avellino 6 vittorie 3 pareggi 3 sconfitte due squadre in cerca di riscatto si affrontano al comunale di muravera nella dodicesima giornata del campionato di serie di girone g arrivano che allora si parte inizia castiadas atletico preoccupato idrisi va a sistemare la posizione dei compagni e poi arriva la parata grande intervento qui ma non è finita la bomba tentata dal limite dell'aria da papa serio prima chance della partita per l'atletico si deve proteggere va da idrisi messo in difficoltà attenzione perché la porta è sguarnita ancora un intervento da parte di idrisi qui il pallone con l'esterno molto buono per mesina tiro in porta col mancino incrociato palla fuori ma anche il cross arretrato carrus sbuccia una girata verso la porta poi in qualche modo maci arriva sul pallone era libero per un istante carrus l'invenzione verso manca e poi maci che arriva sul tentativo di pallonetto dell'avversario alza la testa e vede dall'altra parte il compagno si tratta di neri la battuta in porta smorzata poteva essere una chance davvero ghiotta questa per l'atletico attenzione al taglio di mesina manca si sposta il pallone ancora manca il tiro in diagonale l'ha parato poi il pallone allontanato di testa dall'atletico con cotani ancora mesina che cercava qui di prendere il tempo a diema la battuta di manca centrale in due tempi maci si oppone il suggerimento è interessante il tiro in porta poi cercato da parte di nanni tende l'inserimento di mesina lo stop con il petto prova a girarsi la battuta in porta il pallone fuori non c'è stata deviazione si tratterà di rimessa dal fondo finisce qui la partita in attesa di tempi migliori Castiadas e Atletico si accontentano di un punto a testa finisce 0 a 0 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 12 12 12 Valido per la dodicesima giornata di andata, al Martoni è sfida tra la seconda e la terza forza della classifica. Il Monterosi recupera Farasca in estremis e lancia il neo arrivato giudici dal primo minuto dopo il gol di Freggeni al debutto. Nella Nusei in campo l'ex Nannini, mentre in panchina gli altri due ex della giornata, Quadrana e Rausa. La squadra di Mariotti parte forte con due conclusioni nel giro di tre minuti, quella di Mastrantonio al primo fuori di poco e quella di Gerevini al terzo che impegna la Gorga alla parata. Al minuto 11 il Monterosi trova la via della rete ma Gerevini viene pescato in posizione di fuorigioco. Al diciassettesimo altra rete annullata al Monterosi, taglio eccezionale di Mastrantonio per l'inserimento di Rasi che trafigge la Gorga, decisione molto discutibile quella adottata da Pascariello di Lecce. Solo una squadra in campo nei primi venti minuti in questa prima parte di gara, al diciannovesimo percussione di Giudici fermato in uscita da La Gorga. Al minuto 21 questa volta è Lanusei a vedersi alzare la bandierina del fuorigioco al gol di Congio sugli sviluppi di una punizione di De Montis. Al 34esimo grande occasione per il Monterosi, taglio orizzontale di Gabbianelli per Noman che manca clamorosamente l'impatto con la sfera. Finisce a reti bianche un primo tempo gradevole tra Monterosi e Lanusei. La ripresa ricomincia ancora con un dubbio episodio arbitrale sull'azione di Gabbianelli viene atterrato in area Gerevini. La palla scivola a Mastrantonio la cui conclusione viene neutralizzata dall'estremo difensore della Nusei. Il vantaggio però del Monterosi arriva appena un minuto dopo ed ancora l'italo-albanese Ador Giudici già decisivo al debutto tre giorni fa a Freggene con un sinistro fulminante brucia alla Gorga e fa 1-0. Reazione Lanusei con Sicari che al sedicesimo impegna Frasca alla parata a terra. 23 minuti della ripresa, bello scambio tra Gabbianelli e Giudici che serve Noman, il destro del numero 9 bianco-rosso viene deviato in angolo. Alla mezz'ora l'episodio che fa discutere, Monterosi rimane in 10 per un fallo da ultimo uomo di Gasperini su Sicari. Sull'insidiosa punizione di Ladu però Frasca è bravo a respingere. Mariotti corre ai ripari con quattro cambi nel giro di due minuti. Valentini, Giannetti, Proia e Pellacani prendono il posto di Gabbianelli, Giudici, Gerevini e Francescangeli. Al trentasettesimo brivito per i padroni di casa ma il tiro dell'attaccante Sardo sfiora il palo. Nei cinque minuti di recupero l'Anusei prova l'assedio finale ma l'area di rigore è terra di Valerio Frasca. Il Monterosi porta a casa il settimo risultato utile consecutivo che vale la vetta della classifica con 26 punti al pari del Trassevere. Ed è in questo momento scatta il fischio del signor Vogliacco Camarà. Al centro, Marcheggiani, stop di petto, chiede il rigore, Marcheggiani che viene colpito dal numero 5. Adesso c'è una discussione fra i due, stop, Prisco, all'indietro, tentativo di passaggio a Marcheggiani. Buona questa azione da parte del Cassino, Brac per Tomassi, Carcione e questo è il Corcione che a noi piace tanto, che tutti conoscono. E questa volta Tirelli lascia partire un diagonale preciso che costringe il portiere Tosolfas a deviare in calcio d'angolo. Quindi primo calcio d'angolo a favore del Cassino, sulla bandierina Tirelli. Calcio in questo istante, cross al centro, poi Prisco di testa, palla che va oltre la traversa. Marcheggiani 3 contro 3, deve accelerare, Marcheggiani in aria, tentativo di Tomassi, poi Marcheggiani ancora, si gira, cerca la conclusione. Palla intercettata dal difensore, rosso-blu, Tirelli, Lombardi. Al centro per Prisco di testa, impegna severamente Tosolfas, però la palla non è potenza il colpo di testa. Altra stupidaggine fatta dalla difesa rosso-blu. Prisco serve Tirelli, al centro Tirelli e schiaffeggia la palla all'ultimo momento il bravo portiere Tosolfas su conclusione di Umberto Prisco. è pronto per l'inizio del secondo tempo, sta andando alla disposizione l'arbitro, il signor Vogliacco, dalla stessione di Bari. Intanto vi annunciamo che è stato sostituito Lombardi nelle fede del Cassino. Marcheggiani, cross al centro a cercare Tirelli, che devia di testa, ma la palla vola alta sulla traversa. Occasione per il, ci pensa, il bravo portiere Palumbo a districarsi. Salta l'avversario, numero 18, e poi gol! Gol della Torres. Gol della Torres, va in mandaggio la Torres. Tribelli scambia con Ricamato, tentativo di cross per Marcheggiani. Carcione, Corcione scusate, ancora tira da lunga distanza Capitano Carcione. Palla che esce di poco dallo specchio della porta. Camarà pesca bene di Camato, che si appoggia a Tribelli. Solo a posizione di Tomassi, Tribelli insiste, poi riesce a crossare, ma libera un difensore. Ancora Ricamato, buona la posizione di Marcheggiani. Buona quest'azione del Cassino. La Torres conduce per una rete a zero. Battuta la punizione a parte di Carcione. di testa Camarà, velo ed eccolo Marcheggiani. Conclude un tiro insidioso, ma che il portiere Tosolfas pare in due tempi. Supera tre avversari. Tribelli, no, un tentativo di conclusione dalla lunga distanza, poteva fare ancora qualche metro. Ed ecco Loprisco, buona possibilità, preferisce attendere l'arrivo del compagno. Tribelli, in due tempi, para il portiere Tosolfas e la fine. Il Cassino perde la gara. La Torres si aggiudica ai tre punti messi a disposizione da questa gara. Ancora una sconvitta per il Cassino. E francamente devo dire che ci sembra un attimino eccessiva la perdita della gara. Un pareggio sarebbe stato più giusto. Ma il calcio è questo. Hanno saputo sfruttare un'occasione. Sono andati in rete con il loro numero 9 Camilli al dodicesimo del secondo tempo. E mentre i giocatori si scampiano i saluti. Quindi la gara è terminata, la gara valevola per la dodicesima giornata del campionato di Serie D. Girone G è terminata 1-0 a favore della Torres. Vediamo i tanti tifosi a corsa anche oggi, in una giornata trasettimanale. Delusa, silenziosa. E con i giocatori del Cassino che mestamente stanno raggiungendo gli spogliatoi. Un Cassino che francamente, dopo la prestazione del Flaminio, non è che ci abbia soddisfatti al 100%. Però onestamente devo dire che un Parigi sarebbe stato il più giusto. Intanto i tifosi della Torres festeggiano e invitano la squadra ad andarli a salutare. Cosa che fanno? Mentre i giocatori del Cassino vanno mestamente sotto la tribuna dai tifosi del Cassino. E anche oggi è una brutta giornata per la squadra di Nicandro Rossi. Vediamo che discutono, vengono ripresi i retargui dai tifosi del Cassino che invitano ad essere più incisivi. C'è questa abitudine che poi a fine gara, in tutti i campi, i tifosi vogliono parlare e dire all'alta voce che cosa non è andata giù. Certamente è una sconvitta facile da questi interventi. Siamo in compagnia con l'allenatore della Torres, Sanna. Allora mister, una vittoria che la verità se la attendeva? No, la verità no perché sapevamo di affrontare un'ottima squadra. In casa aveva fatto anche abbastanza bene ma devo ringraziare i miei ragazzi perché hanno fatto molto bene. eravamo messi benissimo in campo, tutti hanno dato il 110% quindi sono molto felice. E questa squadra che abbiamo visto oggi, come si spiega la posizione in classifica? Io sono arrivato 15 giorni fa, per cui non saprei. Devo essere sincero, da quando sono arrivato io, non perché sono arrivato da qua. I ragazzi hanno deciso di svoltare e quindi sono molto felice per loro. hanno tutte le qualità per poter stare più su in classifica assolutamente. Adesso le faccio una domanda a un tecnico insomma. C'è stata un'involuzione a parte del Casino Sabato, abbiamo assistito a partire con Flamina, una partita bellissima sotto tutti i punti di vista. E si può essere la metamorfica a distanza di quattro giorni? Probabile, è possibile che ci sia anche qualche ragazzo stanco, io questo non lo so. Ho visto il Casino e sapevo che avevano certe caratteristiche e abbiamo cercato di bloccare soprattutto tutti gli attaccanti che sono molto forti, i Tirelli che sono molto bravi. Però mi sembra che i miei ragazzi abbiano fatto molto bene, tatticamente eravamo messi benissimo, i ragazzi hanno risposto bene. In più abbiamo anche recuperato qualche giocatore infortunato. Per la nostra rosa è molto importante avere tutti. Una sconvitta che francamente non ci aspettavamo dopo la prestazione del Flamina, è una partita che ha entusiasmato tutti quanti, compreso me che restavo sul posto. Però nel calcio può succedere questo. Un'involuzione diciamo in quattro giorni. Il fatto di giocare ogni tre giorni ci dà queste difficoltà. Però chiaramente loro sono stati bravi perché si sono messi in campo in un modo che erano quasi tutti duelli a centrocampo, uno contro uno. Noi abbiamo fatto fatica a sviluppare il gioco. Qualche occasione che abbiamo avuto non l'abbiamo sfruttata bene. Loro nel secondo tempo hanno fatto un paio di campi importanti. Quello che è entrato, che ha fatto un numero sul Camarà, pensavo che giocassi dall'inizio, adesso non ricordo come si chiama. Un giocatore molto importante. Alla fine abbiamo perso, forse il risultato di parità. Era quello giusto, però c'è l'amarezza di non aver sfruttato di nuovo questo fattore campo. L'anno scorso, questo era un campo dove ci hanno lasciato le penne tutti, quest'anno facciamo fatica a fare i punti. È un peccato perché potevamo e dovevamo dare continuità alla partita di domenica scorsa. Pazienza, così non è stato e c'è un grande rammarico da parte nostra. Vabbè, per il campionato che deve fare il Cassino, onestamente, devo dire che niente di grave successo. Quando perdi fa sempre male, io capisco anche l'amarezza da parte dei tifosi che vogliono vedere la squadra vincere, come è giusto che sia. Però purtroppo c'è anche un avversario, il calcio non è una scienza esatta e purtroppo fa male a tutti questa sconfitta. a me per primo e mi dispiace per il Presidente, per i ragazzi, per i tifosi, per tutto l'ambiente.